Il giallo non è semplicemente un colore, ma è il colore della lotta per il rispetto dei diritti umani. Lo ha scelto Amnesty International che anche quest'anno a Palermo ha organizzato la pedalata in città proprio per fare girare il giallo e dunque il significato che si porta dietro per sensibilizzare anche sulle tematiche che riguardano le torture in Cecenia. Allora siamo all'ottava edizione, le novità di quest'anno sono conferme, Villa Airold di Golf Club e la FIAB Palermo Ciclabile come nostri partner organizzativi e poi una sequela infinita di altri partner che non cito per timore di dimenticarne qualcuno. Allora il ciclo Amnesty nasce non come evento di raccolta fondi, il ciclo Amnesty nasce come evento a partecipazione gratuita. Firmando all'ingresso presso il nostro Zebo noi andremo a garantire gratis la copertura assicurativa a tutti i partecipanti, questo grazie anche alla collaborazione con la FIAB sia sui casi in Cecenia dove si sta svolgendo una delle più gravi e ripetute violazioni dei diritti umani contro le persone arrestate, segregate, torturate solo per il loro orientamento sessuale. Certamente Amnesty International riconosce il diritto a ciascun individuo di esprimere il proprio orientamento sessuale. Con Amnesty facciamo sempre questo gioco al quarto anno che facciamo insieme ciclismo e golf, due sport all'aria aperta e questa per noi è una palestra a cielo aperto, una palestra non esclusiva, non è per ricchi, non è per vecchi. Io ho un vecchietto di 76 anni, il mio golden boy Dino, che lo devi vedere come approccio, come patto, come lancio, contento come un bambino di 76 anni. Grazie.